Solenne cerimonia nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano per celebrare i 100 anni dalla nascita del primo club Rotary in Italia. Era infatti il 20 novembre 1923 quando un manipolo di uomini prestigiosi diede vita presso il Caffè Cova di Milano ad una costola di questo sodalizio internazionale benefico, dando il via alla costituzione man mano di altri club in Italia. A partecipare alla giornata conclusiva del congresso celebrativo svoltosi dal 17 al 19 novembre ha anche, unica nel Salernitano, una delegazione del Rotary Club Film & Friends distretto 2101 con il presidente Sergio Felicino, il prefetto Massimo Cerquaia e la segretaria Teresa Felicino. Nella tre giorni diverse le iniziative e gli interventi organizzati sul tema giovani, lavoro e ambiente, declinati con panel di esperti, testimonial, relazioni rotariane e filmati. Ampio spazio è stato dato anche la presentazione del progetto nazionale da parte dei distretti dal titolo L'età del futuro. Non si è parlato infatti solo di storie di passato, ma anche del domani che verrà, di progetti e azioni per rinsaldare la rete di solidarietà e l'impatto sui territori. Suggestivo il momento in cui si sono ritrovati sul palco in contemporanea tutti e 14 governatori dei vari distretti rotariani italiani. Per il Rotary Campano a spiegare il progetto distrettuale è stato il governatore Ugo Oliviero, giunto a Milano assieme al vice Massimo Franco. Ulisse è il programma già avviato da qualche anno e ora diventato di punta per il Rotary Campano che mette a sistema le risorse rotariane con quelle di Atenei e istituti scolastici per offrire ai giovani la possibilità di perfezionare la loro formazione con tirocini, stage, master e offerte di lavoro in Italia e all'estero.